Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla PPLI, spostandoci in A1 in direzione Bologna, tratto fiuso per lavori tra Aglio e Roncovilaccio, fino al 28 febbraio. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per il restringimento della carreggiata, tra i chilometri 278 e 900 e 279 e 500 nel comune di San Casciano, in Val di Pesa. A Firenze, via di Santa Marta resterà chiusa fino al 16 maggio da via Ernesto Rossi a via della Pietra. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze